voglio provare questa nuova formato non è buona di più ah ok è bestato per sbaglio ho fatto bestato adesso mi besta lei è mia adesso questa me la fai besta me me vai dota me vai zbacaduto me zbacavate ab testa e so brindis bagaduto we're going to take a picture andiamo via tutti andiamo via tutti io ce l'hai detto andiamo adesso la fai nuova prova dall'alto oggi c'è lei vai in via medeia a mangiare un bel antico venaglio la fila che non c'è come funziona va bene non c'è lei la fila non c'è lei non c'è lei guarda non c'è lei non c'è lei non c'è lei Ciao, Alias. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene.